Il problema cinghiali nell'area del Parco Nazionale è molto serio. Queste le dichiarazioni di Bartolomeo Lanzara, presidente Kodakons Cilento. Come testimonia anche l'interrogazione parlamentare presentata il 20 novembre dall'onorevole Marzia Ferraioli, ormai i cinghiali sono così numerosi che si trovano nelle piazze dei paesi e nelle campagne dove si pratica l'agricoltura. Per questo è necessario intervenire tempestivamente nell'affrontare il problema. Occorrono interventi immediati e risarcimento adeguati, certi e tempestivi agli agricoltori, sia per i danni diretti determinati dalla perdita di produzione, sia per quelli indiretti. La diffusione degli animali ha raggiunto dimensioni preoccupanti a cui si aggiungono i danni alle persone e alle strutture, con un aumento di incidenti stradali anche gravi e rischi sempre maggiori per la sicurezza dei cittadini. Abbiamo chiesto chiarimenti al parco per capire meglio come e quali risorse sono state impiegate per fronteggiare l'emergenza fauna selvatica, sottolinea ancora Lanzara. È urgente una nuova e adeguata politica di contenimento a partire dal piano di prelievo selettivi della fauna selvatica. presente nell'area. Si rende quindi necessario il monitoraggio costante delle popolazioni di ungulati e lupi con metodologie innovative. Per maggiori informazioni potete contattare il CODA CONS Cilento direttamente dalla sede centrale o attraverso gli sportelli dei consumatori aperti sul territorio cilentano.